Siamo notati Gesù e Maria? Sì, sì, siamo notati. Le coordinate di questa venticinquesima domenica del tempo ordinario corrono su due binari paralleli, paralleli per certi aspetti ma convergenti sotto altri. La prima è la seconda parte del Vangelo. La prima parte del Vangelo richiama la prima lettura. La seconda parte del Vangelo, come vedremo ora, perché è questa che approfondiremo in questa sede, la seconda lettura. Contesto generalizzato. Gesù annunzia nuovamente la sua passione, deve dire consigliare il figlio di nuovo per essere ucciso, e la prima lettura spiega perché. Perché è stato ucciso Gesù? Questo l'appropondiremo domenica. Perché era santo. E quelli che santi non erano, lo odiavano. Proprio detto in due parole. Detto questo, c'è la seconda parte del Vangelo, che ci mostra alcune miserie del gruppo apostolico. Immaginatevi una scena, no? Gesù cammina, questi cominciano anche a chiacchierare a lui, come lo capisco, che in uno dei preti facciamo così ogni tanto, quando vediamo che le pecorelle fanno qualcosa che non funziona, facciamo fitta di non vedere o di non sentire, perché è meglio fare fitta di non vedere o di non sentire, no? Infamita di niente. Poi al momento opportuno, dice, che stavate a me? Immaginate che la faccia, no? Capite che si sono messi a litigare su chi era più grande. Non so se ne abbiamo già parlato recentemente. Dice, erano molti motivi, capite, perché guardate, dice, San Pietro, che era stato nominato da Gesù, è il Papa, giusto? Poi conosceva San Giovanni, sapete che San Giovanni è l'apostolo prediletto, era il cocco di Gesù, dice lui stesso, è il progetto. Poi c'erano già confiute che erano i cucini di Gesù, erano i figli del fratello di San Giuseppe, ci sono cresciuti insieme, capite? Poi c'erano Giude Scariota, che poi chissà, Giude Scariota era più intelligente, era più culto. Poi c'era Bartolomeo, che era più anziano. Secondo me, io so questo, e se sono messi a rispondere questo, chi è più grande? Gesù chiaramente gli dà una bella suonata, e chi vuole essere primo tra noi si deve mettere all'ultimo mostro, all'ultimo, l'ultimo, l'ultimo che scherzo, e poi fare esempio del bambino. Ecco, approfondiamo un attimo il bambino prima di passare all'avvenimento. Perché c'è il bambino in questo posto? Voi sapete che i bambini, qui ce ne abbiamo un pochino grazie a Dio oggi, così, ecco, possiamo guardare bene. Il bambino è una realtà complessa. Sotto certi aspetti il bambino non è una realtà molto positiva, come il bambino lo sa, perché i bambini a volte sono capricciosi, d'accordo? Fanno i capricci, e si comportano da bambini, quindi, sto a giocare con l'amico mio, me fanno la mia, quando ho il pallone me ne vado non gioco più, d'accordo? Oppure fanno i capricci, fanno le cose, è in questo senso che Gesù dice ai bambini, guardate che, secondo voi, ci stanno adulti, che sono più ragazzini dei bambini, che fanno queste cose, che fanno i capricci, che siccome ci sono difficoltà, le prendono un pallone, e si fanno, no, non gioco più. Io ne conosco tanti, ci stanno tanti adulti, bambini, in senso negativo, solo che Gesù lo usa in questo senso, lo usa nel senso positivo. Cosa c'hanno di ben bambini? Numero uno, sono privi di malizia, a un bambino, se un papà gli dice, guarda l'altro che c'è l'asino che è buro, quello dice, dove sta? Capite? Crede in tutto. Ma poi cosa c'hanno? Che sono vuoti, cioè un bambino può essere plasmato, educato, se i territori sono bravi, quello che va bene, il bambino verrà un bel uomo, perché? Perché tu lo dicevi, quando nasce, Aristotele diceva, tabula rasa, è una tabuletta bianca, è come un libro uomo, tu ci puoi scrivere quello che vuoi, e è ricettivo, perché, capite, secondo voi, c'è differenza tra un bambino, recentemente il papà è stato in Sicilia, secondo lui, è un bambino che nasce dal bosso e dalla moglie, ma scusate, da grande, diventa San Francesco, secondo voi, ordinariamente, no, certo, poi si converte, quando cresce, se i ragazzi ti dico fare qualcosa, San Capito dell'Ellis era un mezzo di lingue interno, è diventato santo, però, l'ambiente di condizione, d'accordo, se nasci da tuoi genitori santi, quante storie di santi, sono figlie di famiglie sante, per esempio, da qualche anno sono stati fatti santi, i genitori di Santa Teresa, di Gesù bambino, Santa Teresa di Gesù bambino, era un'anima pura, un'anima bella, ma se uno vede come viveva i genitori, e te credo che era un'anima bella, capite, le hanno educati, allora, noi davanti a Gesù, questo è quello che ci aveva detto, dobbiamo essere come bambini in questo senso, allora, il bambino, è come un adulto, per esempio, che sa tutto io, io so come stanno le cose, io decido, io faccio, un bambino non le può proprio fare queste cose, perché non è buono, deve ricevere, 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 ecco, davanti a Dio, noi dobbiamo essere sempre tutti i bambini in questo senso, nessuno è adulto, nessuno è maggiorelle, e nessuno è vaccinato, perché di fronte al Vangelo, siamo sempre tutti a scuola, nessuno è scuso, e se io mi sento qualcosa, o mi sento qualcuno, già sto fuori della logica evangelica, sto riempiendo i miti di me stesso, ma quanto più sono riempito di me stesso, tanto più sono vuoto per Dio, Dio non mi può parlare, se non si crea questo vuoto interiore, allora, andiamo a vedere alcune cose della seconda lettura, chi è il bambino? Il bambino è quello che si riempie, San Giacomo dice, la sapienza che viene dall'alto, com'è la sapienza che viene dall'alto? Quindi, quel soffio del Signore che può scendere, su chi crea dentro di sé, le condizioni per accoglierlo, guardate, è anzitutto pura, cosa sono i bambini? possono essere impuri, i bambini piccoli? No, sapete che se anche i bambini stanno, perdonate, i nudi, non gli sembra niente di strano, non possono mandarcela a nudi, ma loro non hanno, capite? E' come se sono questo? Non gli vengono proprio alla destra, certi pensieri, ma la sapienza che viene dall'alto è pura, quando io creo le circostanze interiubie, anche se fossi peggiore dei rossoliosi, io posso diventare l'emblema della malizia, è successo tante volte nella storia della Chiesa, basta che io, al mio cuore, averlo a fronte del Signore, poi, cosa un po' più vicino, forse al mondo, pacifica, pacifica, mite e arrendevole, invece, come il modo di indire mondano, che San Giacomo ci nomina all'inizio della lettera, spirito di contesa, disordine, cattive azioni, guerre e liti, noi non abbiamo questo spirito, i figli di Dio non vivono così, non stanno sempre a litigare, a fare polemiche con tutti e con tutti, non c'è a partire questa cosa, Gesù non era così, ha detto, imparate da me, che sono, mite, ed un mire di buono, c'è un carattere forte, benissimo, usa il carattere forte, per esercitare la fortezza, il coraggio, l'eroismo delle virtù, non per aggredire il prossimo, questo è un po' una forza, pacifica, mite, arrendevole, e piena di misericordia, arrendevole, arrendevole vuol dire che, avete visto no, quando c'è una discussione, ah, c'ho ragione di, no, c'ho ragione di, no, c'è torto, punto, punto in piedi, la sapienza che viene dall'altro, arrendevole, non fa niente che c'è ragione di, non c'è torto, la cosa importante è che stanno in pace, non fa niente che c'è ragione di, no, per principio, lo sapete, io tanti anni fa stavo in mezzo ai tribunati, si scannano anche tra famiglie, tra fratelli e sorelle, per questioni, no, per principio, non so da chi sono, ma è principio della giustizia, in questo non c'è niente a che fare, anche se c'è ragione, secondo la giustizia umana, la giustizia umana se la facciamo a rosto, dice la mia madre, capito, che ti importa la giustizia umana? Noi non, capito, non è un modo di vivere, secondo il Vangelo, pura, pacifica, mita, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, sincera, sincera, non ipocrita, ma non essere ipocrita, di stare addenti, intanto, sapete quante volte, a me, non ho idea, a padre, io non sono ipocrita, pane a pane, e vino a vino, io dico quello che penso, a tutti, non parlo alle spalle, com'è questo comportamento? Un comportamento buono, o no? Sapete come dice il proverbio, come dice una volta, il proverbio padre spirituale, no? Dice, no, non bisogna, io dico quello che penso, e dice, Leonardo, ricorda, lo stupido, dice quello che pensa, il saggio, pensa a quello che dice, ricordatele a questa cosa, lo stotto, dice quello che pensa, il saggio, pensa a quello che dice, ma non perché ipocrita, perché io non mi posso mangiare viva, una persona che mi sta davanti, con la scusa, che dico quello che penso, piena di misericordia, quest'anno, l'amore fraterno, noi siamo discevoli di Gesù, capite, se noi siamo discevoli, hai visto quante volte, il Papa altrimenti sta parlando del diavolo, perché non parlo io troppo del diavolo, tutti i giorni, d'accordo? il diavolo è quello che divide, è quello che ci mette tutti contro gli altri, è quello che crea le questioni, le contese, le chiacchiere, il chiacchiericcio, bla 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 bla, che purtroppo è sempre molto diffuso in giro, questi non sono stili da figli di Dio, non lo sono, per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia, capite? Noi discevoli di Gesù, cosa diciamo prima di fare la comunione? Signore Gesù Cristo, vedete i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, perché ci scambiamo il segno della pace, prima di fare la comunione? Non per andare in giro, non si fa così, non si fa dire che tutta la Chiesa a creare dei sogni, la pace è un gesto simbolico, scambio con il vicino, però è un gesto simbolico importantissimo, tu stai da ricevere il cuore, il principe della pace, per cui il nostro impegno è di stare in pace con tutti, capite? Con tutti, non vuol dire che se c'è qualche cosa di cui parlare non se ne parli, ieri il cartinale Petrocchi contro delle cose bellissime, no? Ma non si litiga, capite? Ci si ascolta l'uno con l'altro, si dialoga, non è che io comincio a pensare, dopo non capisci niente, dovevo convincere, tu c'hai torto, e te faccio la testa così, questo non è modo di dire cristiano, questo è superbia, capite? noi non possiamo fare così, quando c'è qualche divergenza, con caro e rispetto del prossimo, delle opinioni degli altri, ci si siede, e con pacatezza si esprime quello che si pensa, però poi si ascolta quello che pensa l'altro, perché ne è che posso essere comitato, che c'ho ragione, e chi sono? Padre Lello su una terra, può darsi che ci ho torto, quindi c'è questo stile pacifico, capite? Però per ricevere queste cose, questa è parola di Dio, non è parola di Don Leonardo, io ho fatto la predica, citando i passi della Sagra Scrittura, non sto dicendo cose mie, è chiaro che se io, no, no, sono d'accordo, il Signore ti lascia libero, ma non sei un bambino, e il Mangello Barbero dice, solo i bambini entreranno alle due decenni, perché per entrare alle due decenni, tu devi imparare a vivere come vuole il Re del Cielo, che è Gesù, che non vive come vivi tu, perché se vivessi, se andasse bene come viviamo le uomini, non saremmo sceso dal cielo a parlarci, a insegnarci tante cose, capite? Quindi dobbiamo avere sempre il cuore aperto nei confronti di Gesù, non siamo abbligati, d'accordo? Però se non abbiamo il cuore, non siamo suoi decenni, non è un bambino di essere sui decenni, non lo siamo, se non lo siamo di un essere e vogliamo parlare di essere lì, dobbiamo ispirarci alla logica del bambino, metterci in ansia di cui come un bimbo che non sa niente e impara, si lascia maestrare, si lascia maestrare, anche lasciando tanti modi di pensare, di vivere, di operare, che non è detto che siano giusti, potrebbero essere sbagliati, e che problema c'è? ti cambia, non succede niente, si cambia meglio quando si vive in comunione con Gesù e in pace tra di noi. Bene, chiediamo a Maria Santissima che era regina della pace, che ci aiutino ad essere come fu lei, piccola, lavati a Dio per essere piena come lei fu della sua grazia, dei suoi doni e di tutte le virtù che dal cielo ci vengono donati. Siamo donati Gesù e Maria. Siamo donati Gesù